Salve a tutti, buongiorno, bentrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max, qua stiamo stavolta in un video di assoluta curiosità, ma spero anche di utilità, e se così fosse potete anche condividere questo video con i vostri amici. Ago e filo, ci possono essere dei trucchetti per infilarlo in maniera rapida e indolore? Ebbene, le nostre nonne e i nostri genitori probabilmente sono dei mostri sacri nell'usare ago e filo, mentre noi giovingelli non sappiamo nemmeno da che parte iniziare. Ed è un peccato perché soprattutto in un periodo storico come questo sarebbe utile fare delle piccole riparazioni ai nostri vestiti prima di disfarcene del tutto. Beh, insomma, si dice questo per cercare di risparmiare qualcosa, no? Senza andare subito a comprare dei vestiti nuovi. Infilare il filo nella cruna del lago però non è così difficile come si potrebbe pensare. Sui social ci sono alcuni video che mostrano dei piccoli trucchi per riuscire alla perfezione in questa operazione, ma partiamo innanzitutto dal trucco del dorso della mano. Tutto quel che bisogna fare è avvolgere il filo intorno alle dita della mano. Dita della mano, ma sì, abbastanza teso, insomma, farci passare più volte l'ago facendo attenzione a che il foro della cruna sia rivolto verso il filo. Eh, ma attenzione, il bello arriva adesso. Tutti non sapranno sicuramente che anche un vecchio spazzolino da denti che non c'entra nulla con l'ago e il filo può essere molto utile quando si tratta di far passare il filo nella cruna dell'ago. Come utilizzarlo? Bene, semplice, dobbiamo porre lo spazzolino sul piano di lavoro con le setole rivolte verso l'alto, sistemare il filo sopra le setole e utilizzare l'ago con il foro della cruna rivolto verso il filo per far affondare il filo fra le setole. Così facendo il filo verrà spinto in modo semplice all'interno della cruna del lago. Oh, questi trucchi veramente possono rivelarsi preziosi non soltanto per chi è alle prime armi in materia di cucito, ma anche per quelle persone anziane sapere che con l'avanzare dell'età, la mano tremarella, tutte queste cose qui, quindi diventa sempre più difficile. E quindi perché abbandonare un'arte e metterla da parte quando ancora non è il momento? E se proprio vogliamo completare questa specie di tutorial c'è anche l'infilago, accessorio fantastico proprio per chi ha problemi di vista, dal momento che si tratta di una medaglietta di metallo a cui è attaccata una cruna molto grande. Questo si può trovare ancora... ci sono ancora le mercerie? Sì, beh, qualcuna ci potrebbe essere. Si trovano in merceria e costa pochi euro. Questo signori è tutto per questo video, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre qua.